Il dottor Lorenzo Laverone ai tempi di Vicenza, oltre a raggiungere il traguardo della laurea in economia aziendale con una tesi sull'elusione fiscale di diritto tributario, insomma questioni di un certo rilievo, superò anche tutti gli esami da assist man e uomo spogliatoio. Fu così che tra il 2014 e il 2016 il dottor Laverone si innamorò di Vicenza e Vicenza di lui, un amore reciproco insomma coronato in 43 presenze nella stagione 2014-2015, 25 nella successiva e tanto tantissimo attaccamento alla maglia. Uno degli assist vincenti a dirla tutta lo mise a segno proprio con l'Avellino lanciando a rete cocco nella sfida di andata giocata al Menti. Ai Biancorossi, dove viene impiegato come sterno d'attacco, arriverà dunque nel 2014 e il 29 novembre dello stesso anno segna la sua prima rete, gol del momentaneo 1-3 nella sfida vinta in trasferta contro il Varese e terminata per 2-3. In quello stesso anno stabilisce quasi un record avendo giocato 41 partite su 42 in Serie B. Il compagno di squadra di quel periodo è Federico Moretti, anche lui a Vicenza nella stagione 2014-2015. Il centrocampista arriva a settembre e l'8 novembre aveva già stampato una doppietta su punizione contro la Provercelli, insomma uno con il piede caldo. Alla fine su 36 presenze metterà a segno ben 7 reti. Breve parentesi a Latina e poi di nuovo in bianco-rosso l'11 gennaio del 2016, 21 presenze, 0 gol. Insomma due giocatori legati indissolubilmente ai colori bianco-rossi. Ora però è tempo di futuro e la sfida di sabato è troppo importante per l'Avellino per farsi prendere dall'emozione dei ricordi. Inutile sottolinearlo, il dottor Laverone e il professor Moretti lo sanno meglio di chiunque altro.